Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV, siamo in diretta, sono le 7.30, anche per quelli che ci seguono in differita, alle 9.10, alle 13.30, buona giornata anche a tutti voi. Allora, come sempre, il santo del giorno, le previsioni del tempo e poi iniziamo a sfogliare i giornali. Oggi è sabato, 17 gennaio, Sant'Antonio abate, il sole è sorto alle 7.37 e tramonterà alle 16.59. E vediamo, naturalmente, le previsioni del tempo, che cosa ci dice in previsione per il weekend e anche per il lunedì. Allora, vediamo, per oggi il cielo è parzialmente nuvoloso, con prevalenza di sereno sulla fascia costiera e collinare, maggiori addensamenti però nelle zone interne, un generale aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio, precipitazioni sono presenti soltanto all'interno, deboli piovaschi e le temperature sono in aumento. Vediamo domenica, lo schema è più o meno lo stesso, parzialmente nuvoloso, maggiori addensamenti nelle zone interne, aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio. Anche qui deboli e sparse le precipitazioni nel pomeriggio, a partire però dai settori meridionali della regione. Ci sono anche delle nevicate, però il limite è fino ai 1200 metri e in serata. Lunedì invece lo schema cambia totalmente, gli amici della protezione civile ci propongono una regione tutta nuvole e anche con neve e pioggia, quindi il cielo nuvoloso, molto nuvoloso, precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio, però saranno in attenuamento nella seconda parte della giornata. Il limite delle nevicate invece scenderà da 1200, andiamo a 1000 metri, quindi attenzione se vi recate all'interno della regione e le temperature però insomma sono in lieve aumento. Vediamo la tendenza poi per i giorni successivi, ci sarà appunto il cedimento del blocco anticiclonico e quindi lascerà spazio al transito di, in successione, diverse onde depressionarie con condizioni prevalenti di instabilità. Quindi insomma avremo una settimana instabile. Entriamo nel pieno delle notizie, apriamo subito con il resto del Carlino e vediamo naturalmente la vicenda, la psicosetta che ha tenuto banco in questi giorni sui quotidiani e anche sui telegiornali. Onde delta a me fanno bene, credo a lei e credo a Lucia perché è sincera a parlare, è un commercialista che frequentava i corsi dell'architetto. Una coppia che fa discutere, le sue ricchezze, ha comprato una casa col mutuo che faceva pagare 320 euro ai partecipanti prezzi standard e qui c'è l'intervista nel resto del Carlino che focalizza l'attenzione su questi due personaggi e il commercialista che era un loro adepto. Ancora dalla pagina che però riguarda l'interno di Pesaro e di Pian del Bruscolo Adesso manca anche il sangue, c'è emergenza, sì perché l'influenza ha portato diverse mancanze di sangue, di donazioni, quindi tanti donatori malati, c'è carenza di gruppo 0 e A e quindi chi può farlo si rechi nei centri trasfusionali perché l'Avis ha lanciato questo appello perché è un'emergenza se il sangue marca, soprattutto di alcuni gruppi particolarmente utilizzati. Ancora dalle pagine del resto del Carlino però andiamo in quella di Fano, quindi apriamo la pagina di Fano del resto del Carlino, la sicurezza, il nodo della sicurezza è un nodo da dover dirimere, da dover sciogliere. E allora, criminità, il sindaco va dal prefetto, giovedì forse si riunisce il comitato Fano al centro del nodo della sicurezza e poi anche sui profughi seri impone la scadenza solo sino al 31 marzo. A parlare di questa vicenda è anche la CISL che dice se il turismo è al tappeto non è colpa dei profughi, sono nodi più strutturali, più sostanziosi. La vicenda della Fondazione parla a Tombari che dice chiaramente il sogno è infranto perché non riusciamo a fare nulla. Il sogno purtroppo si infrange con la realtà, non si riesce a realizzare nulla. Impianti sportivi nel vuoto, l'appello degli albergatori. Non si può appunto realizzare nulla, questo è il laconico commento di Tombari. Vola la rabbia dei manifestanti, a tenda sindaco chiediamo i danni. Ieri si è svolto all'aeroporto una manifestazione ripresa anche da altri quotidiani sulla questione dell'aeroporto, delle infrastrutture. Ieri c'è stata l'assemblea dei soci, manifestanti o quasi 200 che erano lì davanti per protestare e cercare di perorare le priorità dell'aeroporto. Dopo vediamo anche che in un'altra pagina del messaggero c'è un articolo che riguarda questa vicenda. Continuiamo nel resto del Carlino. Fano va sulla ribalta nazionale a portarcela l'arte culinaria e quindi i piatti. La nostra mensa citata dal Tg2, leggete gli atti prima di parlare, a Vanvera il vice sindaco Oradei replica le accuse dell'opposizione. La commissione convocata aspetta un rappresentante dei genitori. Questa è la questione di Pergola e lo chef Giorgio Borsetti vince la sfida del baccalà. E quindi la gastronomia e l'enogastronomia sono dei motori anche dell'economia della nostra regione. Sono tante le peculiarità che abbiamo ed è il caso sicuramente di sfruttarle al meglio. Cambiamo testata, andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico, Pesaro. Vediamo qui c'è sicuramente la politica che agita di più le acque per in virtù anche delle votazioni regionali che ci saranno. Ma anche i comuni, unione di quattro comuni a regime per giugno, unione di quattro comuni per fare fronte comune anche verso la spending review. Il cronoprogramma fissato dall'assessore Antonello del Noci nel primo confronto con i sindaci. Impianto Panatron, i lavori non parlano. Il presidente federale smentisce il sindaco il 20 gennaio, non riaprirà il cantiere. Se va bene sarà a marzo e qui vedete il titolo è molto eloquente, il pasticcio di Via Togliatti. Ancora dalle pagine del resto del Carlino parliamo di musica, i Beatles Chamber Orchestra al debutto a Cagli, prima a teatro. La musica oltre al turismo e all'enogastronomia sono uno dei veicoli per rilanciare un turismo qualificato nella nostra provincia e nella regione, sperando di vincere quel gap con la crisi che ormai ha da tempo attanagliato tanti settori commerciali. Vediamo la pagina di Fano del Corriere Adriatico, la amara sorpresa di una signora di Sant'Orso che rientra e trova i ladri a rovistare tra le sue cose. Gli domanda chi siete e loro spavaldamente e con ironia dicono chissà chi siamo e quindi scopre tre ladri addirittura in casa. Poi dopo le urla della signora hanno fatto sì che questi scappassero a bordo di una golf dove c'era un complice ad aspettarli. Il raid è stato sventato. Chiesto l'intervento del prefetto, quindi insomma nuova ondata di rapine e di furti, tanto per ricalcare l'argomento, convocata a una riunione di tutte le forze dell'ordine. Quindi allarme e criminalità e abbiamo visto che il sindaco Seri è stato dal prefetto. Qui vedete nella foto la filiare di Bellocchi della banca di credito cooperativo che è stata rapinata giovedì mattina. Pagina ancora dalle pagine del Corriere Adriatico, quella che riguarda l'interno. Fugaro Cambolesca in auto, inseguito e arrestato, guai per un clandestino di 23 anni, sospreso senza patente al volante di una Y10, neanche assicurata. Insomma quindi veramente di ogni. Pagina del messaggero, l'ultima pagina che abbiamo in questa rassegna stampa che riguarda Pesaro, il messaggero Pesaro, vi dicevo la politica qui è un po' il focus di questo periodo. Il Partito Democratico e i candidati è un teatrino assurdo, questo è il titolo del messaggero. Solazzi, presidente del Consiglio regionale, i Democrat non mi vogliono come grande elettore e non mi straccio le vesti, ma mi sembra che ci siano altri problemi di cui preoccuparsi. Poi in taglio centrale lo sport, il basket, il playwright, non sarà il solo acquisto della VL, forse è in arrivo anche un lungo, un pivot, un centro, come si dice ultimamente. Vescovi marchigiani condannano ogni forma di terrorismo, l'apporto di tutte le religioni contribuisca a costruire un clima di dialogo e di rispetto. Il meteorologo, la pagina del meteorologo Massimiliano Fazzini dice weekend di tempo incerto, lo abbiamo visto anche sulle pagine che abbiamo sfogliato in apertura della protezione civile. Ancora le pagine del messaggero, Cisle CGL, critiche all'unione di Mezzata. Questa è la vicenda che abbiamo letto anche nelle altre pagine. L'unione dei comuni di Mezzata perché inizialmente dovevano essere otto, i comuni di San Bartono e di Vallefoglia. Invece adesso, ieri mattina, se ne sono riuniti solamente quattro, Pesero, Gabice, Gradara e Monbaroccio, senza Pian del Brusco. E quindi è un'unione a marce ridotte. Todaro ed Alessandro, quattro comuni sono pochi, va assolutamente coinvolta anche Pian del Brusco. L'assessore del Noci, presto un summit operativo e statuto. Ma sono d'accordo, bisogna aggiungere amministrazioni perché questo sarebbe molto utile. È ancora la questione dell'ex AMGA. Rimaniamo su Pesero, Zucchi di CEL, dice bonifica ex AMGA, il comune sia più trasparente. Bene l'inizio dei lavori, ma i residenti meritano più attenzione perché è una questione di pubblica sicurezza. Sfogliamo le ultime pagine del messaggero, rimaniamo su Pesero, è stata rinviata la fioccolata della pace, delle comunità islamiche, problemi organizzativi, non era solo uno slogan, si farà quindi questa fioccolata e quindi rassicurano sulla volontà di voler mettere anche il loro contributo a far sì che ci sia un clima disteso anche in questo momento perché la questione dei profughi e degli immigrati è una questione comunque che va a braccetto a questo e quindi cambiamo pagina, andiamo a Fano con il messaggero e vediamo che in testa appunto c'è la questione di profughi che verranno coinvolti in lavori di pubblica utilità, l'assessore ha detto che verranno coinvolti e verranno anche strutturati i loro interventi, verranno messi in condizioni di sicurezza, di lavorare in condizioni di insicurezza, sarà un coinvolgimento a titolo gratuito e quindi daranno il loro contributo, non staranno soltanto lì a risiedere senza nulla fare, si tratterà di un impegno appunto a titolo gratuito insieme alle associazioni di volontariato e a centro pagina del messaggero di Fano, l'aeroporto e la manifestazione che c'è stata ieri degli operatori, in 200 hanno manifestato presidio per spingere i lavori e quindi i lavoratori del settore e gli amanti dell'aeroporto si sono uniti in un comitato per il sostegno e la salvaguarda dell'aeroporto, ieri c'è stata la riunione del consiglio di amministrazione e al di fuori dell'aeroporto hanno manifestato per far sì che si andasse avanti con i lavori, manifestazione che ha raggiunto un obiettivo sicuramente, l'altro era quello della pista in cemento, però soddisfazione perché sono stati approvati i lavori per 300.000 euro per rivitalizzare e risistemare al meglio tutta la struttura aeroportuale che comunque è un motore anche economico perché ci lavorano tante persone, sit-in appunto organizzato in occasione dell'assemblea dei soci ma il nodo della pista resta da sciogliere. Questione del porto, quindi altra questione annosa, il porto insambiato però attira un'aria di svolta, Seri e il sindaco è ottimista ma la legge va cambiata e la regione ci deve aiutare. Altra questione che il sindaco ha affrontato, la questione della sicurezza, ripreso a più voci, il comitato della sicurezza appunto per Fano e abbiamo visto che ce n'è bisogno perché si rientra a casa e si trovano i ladri e quello che fa specie è la loro spavalderia, la loro sicurezza, non hanno paura di trovare nessuno dentro casa. Bene, con quest'ultima notizia è tutto, io mi fermo qui, grazie per essere stati con noi, la rassegna stampa torna lunedì mattina alle 7.30 e questa sera la versione del sabato flash di Occhio alla notizia. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.